Fino agli ultimi giorni ha lavorato all'unità del centro-sinistra per una soluzione vincente, unitaria e risolutiva proprio per affrontare le elezioni del Comune di Piacenza e credo che questa amministrazione rappresenti una sorta di estensione di quello straordinario impegno vissuto anche durante la malattia con grande coraggio. Io mi auguro, lavorerò e credo lavoreremo tutti insieme perché l'amministrazione si adoperi insieme alla città, le associazioni alle quali lui è stato tanto vicino per ricordare in maniera stabile Francesco Cacciatore, per ricordarlo alle nuove generazioni, un uomo orgogliosamente di parte, un modello autentico di servitore della città.